Formula E all'Eur da questa mattina e sino alle 12 circa sul raccordo saranno chiuse le rampe di missione sulla pontina in direzione del centro. In alternativa si potranno utilizzare gli svincoli Laurentina e Via del Mare Ostiense. Saranno invece regolarmente utilizzabili le rampe in entrata e in uscita in direzione fuori Roma. Sempre per la Formula E all'Eur lo ricordiamo è chiusa la Colombo nelle due direzioni tra Via L'Europa e Via delle Tre Fontane e Via Laurentina e Via L'Europa. La chiusura andrà avanti sino alle 5.30 di mattina dell'11 aprile. I percorsi alternativi saranno la Laurentina, l'Ardeatina, la Via Ostiense, la Via del Mare e ancora l'autostrada Roma-Fiumicino. Chiuse anche una serie di strade nel cuore dell'Eur. Per quel che riguarda il trasporto pubblico sono deviate su percorsi alternativi 12 linee di bus. Tutti i dettagli sul sito romamobilità.it